I miei capelli hanno bisogno decisamente di un bel restauro, questo è il prima e questo è il dopo, li amo follemente ma vediamo subito come ottenerli. Ho utilizzato Good, la colorazione permanente di Garnier nella colorazione castano cioccolato fondente, ma vediamo subito insieme step by step come utilizzarlo. All'interno troviamo il rilevatore in crema, la crema colorante, il balsamo nutriente, i guantini, la spatolina e il foglio di istruzioni. Andiamo quindi a miscelare le creme A e B insieme e vado ovviamente a mescolare tutto con la spatolina. Ho messo a asciugamano, questa è la consistenza che deve avere e una volta appunto che si controlla di non essere allergici, ovviamente fate sempre un test, possiamo iniziare ad applicarla. Guantini, ma cosa super importante per me è l'odore, non è assolutamente fastidioso quindi punto in più. Vado a prendere due dita di prodotto e inizio dalla radice ad applicarlo appunto su tutta 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 la testa per bene. Vado poi a prendere un'altra sezione di capelli. Una volta fatta per bene le radici si passa alle lunghezze. Andiamo ad applicarlo per bene. Ok, ho fatto per bene tutti i capelli e ora devo stare in posa per 30 minuti. Andiamo a sciocciare. E applico poi il balsamo al burro di karité che nutre e prolunga la durata del colore. Questo amici come avete visto è il risultato finale, a me piace tantissimo perché è super pieno, è stato semplicissimo da fare e in più appunto potete tranquillamente scegliere il colore che vuolete perché ci sono tantissime nuance disponibili. E niente, lo amo. Fatemi sapere se l'avete provato voi e cosa ne pensate. Grazie.